no ciao a tutti ragazzi benvenuti a una puntata della divine ehm... l'altra volta se vi ricordate ero morto là adesso per rage ho eliminato il punto deadpoint e mi sono rifatto tutto da argento anche se se tipo sei già rotta così perchè gli gira vabbè andiamo fuori a questo punto perchè ciao ciao a tutti ragazzi come potete notare sono Ari mi ha fatto che gara adesso ahia quello va male io c'ho l'armatura di leather è fatto che gara addosso vuole giocare con l'armatura di leather quindi lasciamo yes sono qui per dargli una mano si andrano tra virgolette perchè non so dove andare te lo dico io ah nel nether è vero andiamo nel nether però tu muori subito eh ti sta sciottando aspetta fammi metter via la ehm le cose importanti che ho ovvero vado ah beh forza te la nel nether così la perdi ah in effetti undici di test no la creepered te la lascio o un bao mi è ricomparso l'avevo perso ti spiace se ti distruggo la natural burella ho un'idea no lascia la prova no 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 non devi fare no vabbè c'è qua ah lui ti guarda vabbè andiamo ah c'è anche tipo il cartello ha restato qui però dietro il letto si qua vieni a far vedere la cosa forte è che tipo questo cartello l'avevo messo mesi fa ma lui non l'ha mai fatto vedere no ok ha provato mi si chiama una soluzione ci ha detto che per l'interno serve un'altra freccia per forza perché tipo quelli di blocce da lontano ho lasciato ok faccio le frecce aspetta titili intanto io ti modifico quelle cose da notare che sta registrato il computer quindi la notare non si nota è impossibile che laghi diciamo questa è l'idea dov'è? vuoi un arco? no, non voglio un arco lo stesso ma non lo voglio vai mi ai shuriken l'arco distrutto vuoi un arco? certo, distrutto vabbè, fa niente ah stai in giro non ti preoccupare non mi serve non mi ricordo se i kunai si possono e i shuriken continuo dire al kunai si possono recuperare no, non si possono recuperare una volta tirato un arco senza frecce è come una spada senza senza frecce senza punta senza frecce una spada senza frecce proprio the best the best esatto ho un'idea ok andiamo aspetta andiamo nella guardia venese ti spiace se ti ciullo i pantaloni qui che tanto ce li hai di riserva si vai cosa devi fare? beh, mi rimedio che è un po' di protezione più sei un'ibrido un'ibrido ho il cappello dorato volevo i miei stivali eh però vabbè miei stivali potete notare in alto a destra la mod che io ho fatto aggiungere quella lì della vita mostra i danni quando colpisci in più la vita dei mob no molto gentile eccolo eccolo via run 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 18 ari ha 100 di vita ho gli shoot dov'è? è auto aggro è auto aggro è auto aggro da dietro sono morto vai 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 porca attra fuga tattica fuga tattica fuga tattica fuga tattica 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 si son vivo guarda perchè non ti hanno sparato? no in realtà a me da dietro mi hanno colpito mi hanno shottato la vita sono andato a riprendere mille cose ce ne ho io un po' sei passato attraverso il muro lo sai sei passato attraverso il muro sei passato attraverso il muro ah qui ci vuole un po' di strategia un colpo un colpo un marone sta mod dove sei? ti è? ti vai vedere le mie cose sono riuscito a recuperare un po' di roba nella corsa sono queste cose vieni con me ah metti via tutto metti via tutto mancetti metto via tutto metti posso farmi una cesta così naturale metti qui all'attenzione dell'armatura ok va bene un colpo ti fanno fuori se ti metti via tutto eh no l'armatura me la tengo tanto l'ultima età è andata è rimasta lì nella Wilderness andiamo tu allora tu vai per primo devi distrarli tutti lontani dallo spawnpon più o meno questa è l'idea tu sei la cavia corre oddio seriamente eh si morto ma chi che chi che ma chi come quando eh 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 senti ho adesso perso tutto tutto mio argento che ho buttato avevo due staglia ferro ah che due coglioni delle frecce che hanno preso fuoco hanno attraversato il portale lol si comunque gli oggetti possono attraversare il portale muori tutto figlio mi hai ucciso dall'altra parte mi hai ucciso oddio siamo fottuti cerchiamo di riprenderci la roba ci vediamo tra un secondo bye bye oddio oddio aia è entrato un mostro nel nostro mondo oddio oddio aia oddio aia muoia ehi prendiamo la spada più potente che tu abbia mai creato la mass events andiamo mass oddio a cercare una rotta però tipo penso che scaverò verso il basso io credo che ti convenga andare dall'altro lato perchè da quel lato lì c'è ci sono i i no sono i dream qualcosa i stegosauri della giungla diciamo quelle fa occasioni di danni quella notata di argento qualcosa niente hai una freccia nel coso i dream qualcosa dai andiamo a far fuori i dream non qualcosa è in crisi si viene un po' di sciarge non ti fanno vieni si si tu vai lo tu vieni si si tranquillo si 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 arrivo arrivo sto distingendo un altro nulla cfu dove sei andato non c'è niente spiegosauri ma non c'è niente 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 no ho sbagliato volevo vedere la craftierre site e mi ha dato una cosa si vabbè tranquillo cosa ho cancello scuola il salto misterioso mi dico allora vedi è cambiata la cosa adesso si fa con le corrotte di charge cosa il misterius clock ti fa con le corrotte di charge e una sola shadow bar le corrotte di charge se lo dirò giusto una volta è un miracolo si trovano nel di end quindi quindi no mi sembra che forse anche nel deserto dei piccoli ragnetti mi pare forse potrebbero no è la mia tienda nel giocisore cosa troppo andesca questo ne ho qualcuna questo carico si così cosa un po' ma dai andiamo in miniera su e ne fate mai cerchiamo anche la grotta dai dai secondo me io non li sto cercando ma lo troverò io sono sicuro e morirò mi sa che forse ne ho trovato uno no una mucca non mi è fatta confondere un coso del genere come una mucca si assomiglia ah beh un maiale un'altra mucca ma non c'è niente io sono uscito fuori nulla ci fu ma anch'io sono fuori no sono ah ho trovato una fenditura nel terreno dove cazzo sei? guarda la mia eh qui sono vedi tu sei lì io sono qui vedi questo qui è quello quindi devi tornare indietro vediamo se ti vedo ci ho visto io ah si ti vedo anch'io ehi ciao comunque io ci sarò solo per una non vedo più un mondo di bai solo per un paio di puntate non sono qui a tempo indeterminato guarda spero che ci finisca dentro che tu ci finisca dentro uh minchia che be porca troia hai un vasetto d'acqua ah non c'è già un vasetto d'acqua oh 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 mi sono sceso c'è un mucca marrone discriminiamo la è una pecora sai una mucca marrone è una pecora un popolo comunque nemmeno giusta il acqua atta una cosa che non serve davvero vedi ora non c'è più nulla si, sono fissato qualche problema eh un'altra Darkstone nulla ci fu che stai facendo? ah, ti segni tutto si ma tanto li metti di poi se ne vanno quindi non vedo utilità almeno sappiamo come torna indre indre perché perchè un pibistro verde guarda che c'è un botto di vita 1020 un pibistro normale è tipo 4 potevo portarmi una pala stai fermo ma troppo le charge sto coso si, mi sembra anche 2-3 ed è impossibile da prendere sarà che se ti tocca non è che faccia poco d'anni un bat è morto vedi che è utile quella moda oddio oddio corre sono fottuto john sono fottuto cos'è? un cave crawler ma pochissima vita lo so però è natamente forte è vero non ha dato un cazzo tra l'altro non mi hai fatto vedere ah, mi stavi si, ti sto dietro non mi stai dietro è inquietante comunque neee saliii ho fatto una scaletta di fianco ma lui se ne è fottuto totalmente dove? non c'è niente ho trovato una caverna cosa? ho trovato una caverna cosa? ho trovato una caverna no ok niente falsa ah no no si si è una caverna ah qui tu vuoi la continuazione vai vai tranquillo io recupero un po' di materiali cosa? cos'è questa? cos'è questa? cos'è questa? è dark stone non serve niente ah ok è dark stone è dark stone puoi fare una 10 come già andando con una signata ho già detto ah si è vero ah erati quelli che parlavi si io ho trovato un altro proseguimento della caverna dove tu te ne sei andato mmm ed è bello grosso anche oh porca muori ucciso che palle dove sei? sono stavo proseguendo dove vai? ma non c'è niente in quella caverna si invece c'è un altro passaggio torna nella nella zona della caverna eh ecco vai dentro vado e prosegui non l'ho mica esplorato tutto un piccolo score una salita verso l'infinito c'è anche un dark vieni ti bruci nooo guarda non riesce che tristezza però mi si boh mi fece non lo sai aspetta arrivo arrivo so io come abbatterlo non ci arrivo che sfiga ho degli shuriken arrivo dove oddio dove sei andato tu oh guarda dove sei andato guarda se no dove sei andato che cazzo ah sono fame john io mi sono persa sono in una zona piena di lava della real might aiuta oh non so dove sei real might ti servono i lapis lazuli no le altre servizie sono nella moda e non servono le lapis io li prendo lo stesso redstone anche se fosse non ci posso arrivare io sono sceso per quella discesa che c'era tu sei sceso per tutto non lo so dove sono andato però vado c'è qualcosa che sta guardando da sole non sapessi dove sei anche lui si buttano la lava mi rinunciato doveva fa buon punto verrei a darti una mano se si passi ah ok vedo vedo il tuo da egitto eccomi ora se vuoi il bar con il morto ma il batte mi sciotta la vita se non capisce di nuovo arrivo arrivo penso il tuo cazzo un torto muore il batte muore per recuperare le cose che troppa dai è morto su alla ecco ti sapete il cibo hai messo il gioco ma perchè non hai piattuto giù un altro che non ha blocchi diverso e dimmelo a mano della coppia non ci fu non c'è niente non c'è niente qui nulla c'è fuori qua non c'è niente ma fuori c'è niente diamanti aspetta aspetta arrivo anch'io dove sei ah ok arrivo e direi di piazzare blocchi no? dov'è che li hai visti? ah non avevo mica visto ho finito il cibo minchia quanti tieni tu dai grazie non bisogna sapere cosa fanno in questi diamanti slime is water non conviene perchè poi non va neanche la matura coppia cos'è e' uranio impoverito probabile ma va piazza e' coso rubi no rubi quell'altro sempre della per fare altro portale si no serve per fare il misterius clock ah dove è andato non piuttosto vado avanti da là altra box e io ho trovato della arremai rarremai bravo non serve assolutamente a nulla invece mi serve non ho ancora il portatile portatile non hai portatile serve per il portale eh si ma comunque non puoi accendere comunque dove mi serve il portale vabbè con nulla ci fu piazza le torce c'è che grotta gigante altra lava il problema è come cazzarola risalino risalino mi batti di merda buon salve e qui lasciala me lasciala me no è troppo troppo veloce volevo tiragli un kunai ma perchè continua a dire kunai è shuriken continua a dire kunai comunque io ti ho fatto un rifornimento di iron te ne ho presi altri 30 33 yes ha preso fuoco guarda dove sei incastrato lol non è un bel posto questo ti servono torce? ne ho 7 ne vuoi un po? no sicuro? si no perchè ne ho un paio di stack che mi avanza ho un paio di stack che mi avanza dov'è? blu anche ho trovato rupee ore e arremai tor servono entrambi ok tieni tieni john 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 fermo grazie uccidiamo quel cazzo di minchia uccidiamo quel cazzo di cosa cosa te ne fa muori bat muori non mi toccare a 22 di vita tienilo lì tienilo lì oh yes e non ha droppato cazzo giustamente quando riusciamo ucciderlo no no si si ha droppato tieni 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 ti do quello che ha droppato tieni no non è vero sarebbe stato epico cosa troppato cosa troppato cosa troppato immagini sono troppato davvero qui finisce qua c'è ne ancora ho appena fatto il salto della fede sopra la lava 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 come lava 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 che lava sei un idiota sei un idiota sei un idiota lì ho portato in st scatafaca ma va che gare stai ammazzando lui è quello con i diamanti tra se ti spingo in questo momento cosa succede l'ho fatto no è successo da solo ok però non possono blocchi da piazzare io si gi 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 sei sceo quando uno è scemo non sei scemo cosa ho fatto ma sei tu che mi piace le robe sotto i piedi sto che vieni sotto i miei piedi già vieni sotto i miei piedi grazie ma nulla ci fa non c'è un'altra stanza da madonna cazzo grande sto posto tu ti ha piaciuto a cercare di piacere una a un millimetre m è mai creeper ti sta seguendo è esploso c'è una testa di cacchio quanti anni fa un creeper non lo so non è possibile una matura d'argento hai guardato a difficoltà è hard è hard si certo non esistono edifici di hard a normal scusa normal perchè sta usando i miei pc è normal comunque c'è che cazzo di senso ha ok devo risalire si c'è che devi recuperare con aramai fai vedere cosa facendo ma non posso si trova due coglioni ho fatto un creeper asciuttare un po' di vita ma no perchè ti era proprio no se ti ha un millimetro ti ammazzo ah è che nemmeno lo sapevo potevi per cercare di proteggerli però che è stata notizia si ma hai tolto il disink perchè? cosa? il disink ah no me lo sbatto altamente eh guarda cosa fa aspetta ah guarda qui cosa? eh e questa riga qua è dovuta al disink posso attivarlo ah ora non lo fa più non mi sono appena teletrasportato tranquillo no aspetta ripassami l'oro ripassami l'oro ripassami l'oro non ti do il resto no non ti do il resto non ti do il lapis dammi l'oro e invece me ne hai dati dammi l'oro ti ammazzo tagoro non comprati l'oro no 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 cosa non c'è un po' di cose ne ho messo 14 qua dentro no no dai do cammi eri sta mangiando la mia insaputamente so sistemando le cose da bruciare se no aver amm in hermite cos'è? holo un'anete di teore si avvicina a pasqua un'anete di teore alzano notteva da tutti alzato di john mangio io vi intrattengo lo schermo nera nana di roma di roma di roma roma buonanelli un po' o' 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 il mondo nomi per far mettermi a farmi quando mi vedo quando mi dicono che sono una testa testa di legno allora stavola di tutto davvero perchè non mi ha fatto un cazzo ma va bene uguale ci sarò soltanto io ogni salari davvero davvero vuoi terminare così senza aver fatto assolutamente nulla cosa vuoi fare tanto non è che potessimo fare tanto io volevo aiutarti a far cosa a produrre oro mi ha preso fortuna mi ha preso trovare diamanti aspetta prima di terminare la puntata come da tradizione diamanti scarpe doro r 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